Musica Benvenuti a questa nuova edizione di TG Oristanese, apriamo anche oggi con la cronaca. Un brutto incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale 292 a poche centinaia di metri dal rimedio. Coinvolte 4 autovetture con 4 persone che sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale San Martino di Oristano. Secondo quanto si è appreso a causare il tamponamento multiplo è stato un cane che ha attraversato la statale. La prima delle auto ha rallentato come hanno fatto le altre due che la seguivano. Il guidatore del quarto veicolo, una Seat, non si è accorto delle macchine quasi ferme e le ha tamponate violentemente. Cambiamo argomento. Il presidente della regione Francesco Pigliaro e l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria hanno incontrato a Roma il vicepremier Matteo Salvini per una veloce risoluzione della crisi dei pastori sardi. Sentiamo come è andata nel nostro servizio. Dopo il tavolo latte convocato mercoledì 13 dalla regione, nel pomeriggio di giovedì 14 il presidente Francesco Pigliaro e l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria si sono recati a Roma all'incontro promosso dal ministro dell'interno Matteo Salvini. Abbiamo portato al tavolo la proposta che avevamo già presentato alla riunione di mercoledì e alla fine è stata l'unica discussa operativamente, ha detto il presidente Pigliaro. Il solo modo concreto per affrontare l'emergenza, lo abbiamo ribadito, è far correre risorse per ritirare le eccedenze dal mercato in modo sia temporaneo che definitivo, ipotesi condivisa da tutti i partecipanti. I 10 milioni già mobilitati sono stati aumentati ulteriormente. È chiaro che per il comparto serve strutturare un percorso che guardi più lontano, ha sottolineato il presidente della regione, ma attualmente si tratta di risolvere l'emergenza. Qualche passo avanti è stato fatto, ma l'obiettivo di chiudere la campagna casearia 2018-2019 con una remunerazione adeguata del latte, che anche stasera gli industriali non hanno proposto, potrà essere raggiunto solo grazie all'impegno di tutti, a iniziare dalle risorse che noi, il sistema finanziario regionale e ora il governo, stiamo assicurando. Continuiamo a lavorare a una soluzione che sia capace di creare le condizioni per una stabilità delle quotazioni nelle prossime campagne, ha concluso Francesco Piglieru. I lavori del tavolo proseguiranno infatti sabato a Cagliari. Tutte le azioni che sono state individuate fanno ben sperare per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutti, ha dichiarato l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria. L'obiettivo è quello di arrivare al prezzo del latte di un euro. E sempre sull'argomento sentiamo un ulteriore approfondimento da parte di Paolo De Sogos. La rivendicazione dei pastori dell'isola che chiedono un adeguamento del prezzo del latte ad almeno un euro al litro più liva del 10%. La durezza e il carattere assunto dalle manifestazioni, con il latte rovesciato nelle strade, il blocco delle vie di comunicazione, il controllo dei tir in uscita dai porti, il blocco delle produzioni nei caseifici e negli altri stabilimenti di trasformazione, la soltigliarsi delle scorte di prodotto nei centri commerciali hanno portato all'arribata nazionale e internazionale uno dei tratti più inediti e caratteriali della società sarda, quello agropastorale, che viva e lavora nelle campagne, certo in condizioni diverse dal passato, ma pur sempre in campagna e in isolamento e solitudine. Ma pur sempre in campagna e di isolamento e solitudine si tratta, ne consegue uno scontro che è anche caratteriale, che non accetta più mezze misure e al momento, in attesa dell'ulteriore giro di consultazioni, difficile ipotizzare i futuri sviluppi di un'avvertenza che ha assunto quei tratti e quella dimensione. Ai margini di uno scontro che ha profonde marcate radici sociali, maturate in anni di sottomissione e battaglie perse in partenza, stretta dai problemi, la categoria dei pastori ha avuto un sussulto d'orgoglio e ha rotto gli argini delle attese senza risposte e di partecipare a battaglie che si sono sempre arenate, impromesse non mantenute e problemi irrisolti. Ora nella falla che si è aperta passa la rivolta estrema di una categoria che solo in questo modo e seguendo questi sistemi riesce a farsi sentire e in Sardegna questa potrebbe essere la punta di un iceberg che può coinvolgere anche altre categorie sociali in sofferenza. Nuove proteste dei pazienti talasemici dell'Oristanese per il trasferimento del reparto per le cure all'interno del San Martino di Oristano. Sentiamo i dettagli nel nostro servizio. Al via in questi giorni a Oristano le proteste dei pazienti talasemici. L'ASL ha infatti deciso di trasferire il reparto per le cure all'interno dell'ospedale San Martino decualificando lo stesso a semplice ambulatorio. Nonostante le promesse e le rassicurazioni in merito al nostro possibile trasferimento dei attuali locali ci troviamo di fronte ad una decisione già presa senza nessuna valutazione condivisa o quantomeno proposta. Inizia così il lunghissimo post pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione talasemici Oristano Ollus. Abbiamo sempre cercato di collaborare e di dialogare con l'azienda sanitaria attuale. Stiamo portando avanti innumerevoli progetti anche di carattere sanitario. Immaginavamo che per questa importante decisione ci fosse una collaborazione reciproca. Così non è stato purtroppo, fanno sapere dall'associazione. I locali individuati non sono adeguati per ospitare 10-12 pazienti che 5 giorni su 7 effettuano la terapia trasfusionale. Ci vediamo costretti ad una protesta forte e che lede la nostra salute. Le prese di posizione dell'ASL oristanese non si è fatta attendere. Il trasferimento del servizio per la diagnosi e cura delle talassemie è stato programmato in quanto nei locali attualmente occupati dallo stesso servizio è realizzata l'area d'egenza in regime penitenziario con due posti letto riservati ai detenuti, ha affermato il direttore ASL Mariano Meluni. Tale area fino ad oggi non è stata usata in quanto erano stati previsti due poli per l'assistenza ospedaliera ai detenuti uno a Sassari e uno a Cagliari mentre ora si renderà necessario attivarla. ha aggiunto il direttore. Per il servizio per la diagnosi e cura delle talassemie sono stati individuati dei locali alternativi dislocati al primo piano del nosocomio oristanese che rispondono a tutti i requisiti necessari e richiesti per tale tipo di attività sanitaria, ha concluso Meluni. Arrivano i fondi per la ristrutturazione del centro anziani di Oristano. Il progetto è da 40.000 euro. Un centro anziani completamente ristrutturato con una nuova pavimentazione, la sistemazione del muro di separazione tra le sale interne, dei servizi igienici, la tinteggiatura delle pareti interne e la sostituzione delle porte dei servizi e dei serramenti esterni. Con un progetto di 40.000 euro il Comune realizzerà i lavori di manutenzione straordinaria nella struttura all'angolo fra via Cagliari, via Ciusa e via Farina. Il fabbricato, utilizzato in parte come centro sociale per gli anziani e in parte dal circolo bocciofilo e che a breve ospiterà anche il centro per l'autonomia del plus, presenta un'ala che necessita di urgenti lavori di ristrutturazione. Ala che fino agli anni 80 era adibita a mensa per gli studenti pendolari con annessa a cucina e servizi. Negli anni scorsi il Comune aveva già realizzato un intervento conclusosi nel 2009, precisano gli assessori ai servizi sociali e ai lavori pubblici Francesca Loi e Francesco Pinna. La porzione di fabbricato utilizzata come sala mensa è stata solo in parte ristrutturata e oggi si intende completare quell'intervento per rendere la struttura che ospita importanti attività a servizio del sociale, anziani e sofferenti mentali finalmente pienamente fruibile. Previsti anche l'adeguamento dell'impianto idrico fognario dei servizi igienici e la realizzazione del nuovo impianto elettrico. I lavori saranno realizzati dall'impresa Orru di Oristano. L'assessorato ai servizi sociali del Comune di Oristano ha prorogato al 25 febbraio i termini per la presentazione delle nuove domande per poter usufruire dei piani legge 16298. La modulistica e l'avviso pubblico integrale sono disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico e il servizio informacità sul sito istituzionale www.comune.oristano.it. Le Camere di Commercio affiliate al sistema AlpMed temono ripercussioni economiche derivanti dalle tensioni tra Italia e Francia. Abbiamo sentito le dichiarazioni di Nando Faedda, Presidente della Camera di Commercio di Oristano. Traspare forte preoccupazione da parte delle Camere di Commercio di AlpMed, gruppo nato nel 2008 che riunisce le Camere di Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta a quelle d'Oltralpe, del Rodano e Alvernia, Provenza e Costa Azzurra, Corsica compresa. Un progetto di cooperazione trasnazionale che raggruppa oltre 2 milioni di imprese che generano un PIL complessivo di circa 550 miliardi di euro con 8 milioni di posti di lavoro. Facile quindi comprendere quanto la tensione tra Italia e Francia dell'ultimo periodo possa minare la stabilità di un sistema dai numeri di tale portata. Il Presidente della Camera di Commercio oristanese, Nando Faedda, ha spiegato nel dettaglio il problema. La preoccupazione è grande perché i rapporti con la Francia sono stati sempre ottimi dal punto di vista personale tra i politici, anche dal punto di vista economico. Oggi noi continuiamo con la Francia ad avere dei rapporti economici di un certo impatto perché si parla di miliardi. In definitiva, questo screzio che c'è stato a livello politico potrebbe arrecare non pochi danni anche all'economia fra le due nazioni. In questo momento, dato che quelle regioni che principalmente vengono coinvolte in questa operazione economica che è il Piemonte e che confina fortemente con la Francia, dove ci sono dei rapporti economici di interscambio molto, molto, molto forti e perciò verrebbero sicuramente danneggiate anche questi rapporti economici che fino ad oggi sono andati abbastanza bene. Naturalmente non dimentichiamoci mai della questione turistica. Oggi come oggi, anche in Sardegna, noi abbiamo tanti francesi che vengono. Io quest'estate ho visto veramente sulle spiagge che si parlava tanto francese quanto italiano e spagnolo anche. Perciò diciamo che è un turismo che si sta allargando dato anche dai voli low cost e robe del genere che portano parecchi turisti qui in Sardegna. non vorremmo che questo potesse danneggiare anche questo afflusso di francesi che vengono verso la Sardegna. Non va assolutamente bene. Noi siamo enormemente preoccupati di questo stato di cose come camere di commercio aderenti all'Alpimed dove ci sono le camere di commercio della Francia, della parte costiera della Francia, le camere di commercio del Piemonte, le camere di commercio in parte della Liguria, le camere di commercio della Corsica, le camere di commercio della Sardegna. Perciò tutto quel bacino mediterraneo che coinvolge in Alpimed è dove c'è un volume d'affari enorme. Non vorremmo che questo fosse danneggiato da questo screzio che è nato, speriamo che lo sanino al più presto. Una situazione che potrebbe comunque essere in via di risoluzione. Proprio oggi infatti il ministro per gli affari europei Nathalie Loiseau ha annunciato il rientro dell'ambasciatore francese Massé nella sede romana. Sicuramente è stato un gesto estremamente forte in periodi di pace, diciamo, in periodi di Europa, perché togliere un ambasciatore da una sede europea non è una cosa da niente, vuol dire che lo screzio è stato abbastanza grande, ma mi fa piacere che lei mi sta dicendo che io ancora non ho visto questa notizia, che la cosa si stia ricucendo e speriamo che al più presto queste cose vengono fatte. Ma d'altronde c'è anche da dire che il nostro Presidente della Repubblica ha fatto tutto il possibile con il Presidente della Repubblica francese di vedere e di attenuare questo scontro politico, perché ragionano da persone di un certo tipo e ragionano da politici e ragionano di Europa. Sono cominciate le visite guidate presso i luoghi della pesca con i bambini delle scuole primarie del territorio FLAG che partecipano al progetto Scoprendo i dettagli nel nostro servizio. Un solo obiettivo, favorire il consumo del pesce locale e in particolare delle specie IT che considerate povere o meglio dimenticate, alle quali il mercato non attribuisce valore e che gli stessi consumatori spesso non conoscono. Hanno preso il via in questi giorni le visite guidate presso i luoghi della pesca con i bambini delle scuole primarie del territorio FLAG che partecipano al progetto Scoprendo, realizzato dal FLAG Pescando, Sardegna, Centro Occidentale. Una campagna di sensibilizzazione a carattere informativo ed educativo rivolta alla popolazione e alle scuole. Dopo un'interessante lezione svolta in classe, i bambini, grazie alla collaborazione dei pescatori, possono approfondire quanto appreso attraverso la visita presso uno dei luoghi della pesca del territorio tra cui borgate di pescatori, impianti di acquacultura e i titurismi, alla scoperta dei mestieri degli strumenti, delle tecniche di pesca, cattura e anche coltivazione del pescatto. E prima di aver svolto il laboratorio sul campo sono stati gli alunni di due classi terze della scuola di Terralba presso la borgata di Marcedì. I piccoli studenti hanno partecipato con grande interesse e curiosità anche perché è un'attività spesso praticata da genitori o nonni. Oltre agli alunni della scuola primaria di Terralba, ai laboratori hanno partecipato finora anche i bambini delle scuole di Santa Giusta, Cabras, Arborea e Uristano e nei prossimi giorni si terrà un nuovo incontro nella scuola di Palmas Arborea arrivando a coinvolgere complessivamente 18 classi. Sarà prorogata fino a domenica 10 marzo 2019 la mostra temporanea intitolata OICOS La casa di tutti ospitata al Museo Diocesano Arborense in piazza Duomo 1 a Uristano. La rassegna a cura di Anna Rita Punzo e la direzione di Silvia Oppo tra ispirazione dai passi della seconda enciclica di Papa Francesco Laudato Si in cui il pontefice invita a coltivare e custodire il giardino del mondo. Sarà visitabile il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. I menir di Allai e Laconi saranno esposti temporaneamente a Matera capitale europea della cultura dal 2019. Vediamo. Abbiamo posato la prima pietra di un progetto che può contribuire a riscrivere il racconto della preistoria dell'uomo attraverso opere e luoghi unici. Sono le parole del sindaco di Allai Antonio Pili all'indomani della firma del protocollo di intesa che vede uniti la rete sarda dei musei e dei luoghi delle statue dei menir Matera capitale europea della cultura per il 2019 regione Basilicata Parco della Murgia e il centro studi Giovanni Maria Trabaci. Un'intesa che nasce da un'idea del presidente del centro studi Trabaci Giuseppe Barile e che ha come punto di partenza la mostra internazionale Dialoghi con uomini di pietra che sarà proposta a Matera in uno dei primi siti di insediamento dell'uomo nell'età della pietra. La rete sarda dei musei esporrà nella città della cultura alcuni dei reperti più significativi della grande statuaria antropomorfa incrociata dalle rotte preistoriche mediterranee. A coordinare scientificamente l'evento sarà Giorgio Murru direttore del Menhir Museum di Laconi che sottolinea come per la prima volta espressioni culturali provenienti da tutta Europa si incontreranno in luoghi magici per rappresentare la straordinarietà di una storia che unisce l'intero continente dall'Atlantico al Caucaso e dalle isole britanniche all'Arabia. Ed ora vi lascio ad uno speciale approfondimento su Sartille Ganna Alice Falchi è su un po' d'oredo scelto anzi sorteggiato quest'anno 2019 a ricoprire i ruoli su un po' d'oredo appunto per Sartille Ganna vediamo come è andata in questo approfondimento grazie a tutti per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione di STV News di Giori Stanese Alice Falchi grazie a tutti 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 grazie a tutti